Nella 44esima puntata del GF VIP Soleil Stasi ha puntato su un look total black, impreziosito da un dettaglio tra i capelli, il maxi cerchietto gioiello da principessa. La 44esima puntata del GF VIP si è aperta con una notizia che i concorrenti mai si sarebbero immaginati di dover sentire, Alfonso Signorini li ha informati della delicata situazione tra Russia e Ucraina e delle recenti decisioni di Vladimir Putin, che ha intrapreso un attacco militare nei confronti del paese. La serata ha visto l'uscita dal reality di Katia Ricciarelli e l'ingresso in nomination di Antonio, Miriana e Nathalie. Soleil Stasi è stata protagonista di una sorpresa da parte di sua zia Daniela, che le ha scritto una lettera per darle forza e per incitarla a non mollare, nonostante le tensioni e le delusioni accumulate durante il percorso. Soleil Stasi è molto amata dal pubblico, che la segue soprattutto in relazione a una situazione che tiene banco da mesi, il triangolo amoroso con Delia Duran e Alex Belli. Ma gli spettatori sono rimasti molto colpiti anche dal suo look. Sin dall'inizio del reality i suoi sono stati tra gli outfit più interessanti, originali e sempre diversi, caratterizzati il più delle volte da dettagli griffati. Lo stylist Matteo Evandro Manzini a fanpage.it ha spiegato di essersi mosso accentuando il suo stile bohemian, ama stratificare e giocare con le sovrapposizioni. Di fatti l'abbiamo vista con kimono e camice, le abbiamo visto sfoggiare colori eccentrici, per esempio la Vito Verde Lime, ama le piume sugli abiti, come quello con maxi spacco e gonna asimmetrica. Ultimamente si è appassionata a un accessorio in particolare, molto trendy, il maxi cerchietto gioiello da principessa. Grazie per la visione! Grazie per la visione!